Steven Hunter, da ieri pomeriggio, si allena al Palasera di Migna agli ordini di coach Meosacchetti. Lo farà per ancora un paio di giorni, periodo di try-out utile a valutarne condizione e approccio al gioco. Operazione messa in campo in prospettiva dal DS Federico Pasquini, con la Dinamo Banco di Sardegna costretta a restare vigile sul mercato. Vigile perché, oltre alle voci circolate nell'ultima settimana e da tutte le valutazioni del caso legate al rendimento dell'ex Auckland University, Kate Benson, rookie arrivato in estate alla corte del presidente Stefano Sardara, gli Atlanta Hawks sembrerebbero intenzionati a riportare negli States il giovane centro sfruttando l'NBA escape prevista dal suo contratto. La certezza è che al momento non c'è il taglio del giocatore e che lo stesso Benson, domenica alle 20.30, scenderà in campo contro Milano. Hunter, pivot con nove anni di NBA in curriculum, passaggi a Orlando, Philadelphia e Memphis, lo scorso anno fuori dai giochi per un intervento di routine al menisco e quindi arruolato da free agent a Minnesota, è alternativa da visionare e valutare, indietro fisicamente ma presente sul parquet, intimidatore che sembra essere a suo agio con la dimensione sassarese. Intanto Pinton sembra essere pienamente recuperato, Vanuzzo lavora ancora a parte mentre sono da verificare le condizioni dei due dinner.